C'è bisogno di una rete integrata sempre più vicino a domicilio del cittadino stesso. Siamo sempre più convinti che vada spostato l'epicentro di cura dall'ospedale verso il territorio perché abbiamo sempre di più cittadini con più patologie, con l'età li chiameremo grandi anziani ma sono cittadini che hanno patologie tale per cui c'è bisogno di una rete integrata sempre più vicino a domicilio del cittadino stesso. L'ordine di Bologna vuole fare il suo per contribuire a far partecipare gli infermieri in una delle manifestazioni più importanti a livello nazionale per dire chi siamo, cosa vogliamo e qual è il modello di sanità che vogliamo per il cittadino. Stiamo partecipando con tre eventi, uno sullo sviluppo delle competenze specialistiche degli infermieri in ambito territoriale, oggi pomeriggio è più dedicato il focus alle case della salute e sulla presa in carico del cittadino anche in un'ottica multidisciplinare. Dopodiché domani siamo con un evento molto importante, uno dei primi in Italia sulla gestione del paziente complesso nel territorio in fase acuta e quindi nel sistema di emergenza territoriale.